Benvenuti a un nuovo appuntamento con le previsioni tre bimeteo per Telemistretta. Lo avevamo preannunciato con largo anticipo l'epifania, l'anticiclone porta via. Infatti l'anticiclone nordafricano che ha caratterizzato il Natale, la fase finale dell'anno, sarà sostituito da un vero e proprio ciclone mediterraneo che nel corso dei prossimi giorni apporterà piogge ovunque su tutta la nostra penisola e soprattutto l'arrivo del vero inverno con un sensibile abbassamento delle temperature. Ma andiamo con ordine, sabato si comincia con ancora qualche schianita e forti venti di libeccio che temporaneamente fanno impennare le temperature ma poi tra pomeriggio e sera arriva nuvolosità diffusa con associate precipitazioni, i venti si orientano dai quadranti occidentali e la temperatura comincia a calare. Nella giornata di domenica sono attesi forti venti di ponente unitamente a un ulteriore sensibile abbassamento delle temperature e sono attese precipitazioni che tenderanno a concentrarsi su Trapanese e Palermitano e poi lungo le coste meridionali dell'isola, dunque più a riparo il settore tirrenico e le province orientali. Poi lunedì questo centro di bassa pressione dal Tirreno si porta verso l'Ionio ebbene da questa posizione richiamerà venti ancora più freddi dai quadranti settentrionali, precipitazioni che si concentreranno stavolta sulle aree tirreniche e sui rilevi prospicenti con nevicate attese direi a partire dai 1000-1100 metri di quota, dunque verranno imbiancati comuni montani di Madonie e Neboli, quelli più elevati e ovviamente nevicate sono attese anche sull'Etna. Anche poi nel corso della prossima settimana direi per tutta la settimana sarà un susseguirsi di perturbazioni, un omocentro di bassa pressione infatti atteso a formarsi sul Mediterraneo centro-occidentale, richiamerà ancora aria fredda a nord Europa, dunque scenari da pieno inverno, soprattutto attese, ulteriori precipitazioni per gran parte della settimana soprattutto al sud, dunque Sicilia compresa. Ma per maggiori informazioni sulla vostra singola località vi raccomando di consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.